Textile Solution Center è il polo di ricerca, assistenza, formazione e promozione al servizio della stampa tessile digitale su scala industriale. Nelle Textile Solution Center è possibile sperimentare con il supporto del personale specializzato Epson e Fortex l'intero processo produttivo della stampa digitale. Qualunque idea creativa trova qui piena realizzazione e qualunque problematica può essere studiata e risolta grazie agli strumenti industriali a disposizione. Nel Textile Solution Center è possibile seguire l'intero processo produttivo della stampa digitale su tessuto in tutte le sue fasi. Dapprima il tessuto viene trattato per assicurare un'eccellente resa dei colori e una perfetta definizione di linee e contorni prima di andare in stampa. In questa fase è possibile studiare pretrattamenti su misura per esigenze specifiche. Si passa quindi alla stampa digitale su tessuto, che può avvenire con soluzioni diverse a seconda delle tirature, del tipo di tessuto e del risultato che si desidera ottenere. Per la realizzazione di piccoli lotti è disponibile Epson SurePress FP30160, la prima stampante inkjet digitale per la stampa diretta su tessuto interamente realizzata da Epson. Epson SurePress FP30160 è estremamente flessibile e in grado di passare velocemente da un disegno all'altro. È la macchina perfetta per realizzare campionature e variantature di tessuti, da stampare poi su larga scala con Monnalisa. Con Monnalisa, il sistema di stampa tessile digitale industriale basato su tecnologia Epson Micro Piezo e sviluppato da Fratelli Robustelli, è possibile stampare grandi tirature su tutti i tessuti, con una gamma infinita di colori, per disegni estremamente e dettagliati. Epson SurePress FP30160 in Monnalisa sono perfettamente integrate nel flusso di lavoro digitale per una maggiore rapidità di consegna e una maggiore facilità nell'apportare eventuali correzioni. Presso il Textile Solution Center è inoltre possibile realizzare stampe su tessuto con trasferimento a caldo, grazie alla presenza di Epson SureColor SC Serie F e stampare direttamente su tessuti plastificati con Epson SureColor SC Serie S. Una volta stampato, il tessuto deve essere quindi sottoposto alle fasi di vaporizzaggio e lavaggio in continuo o discontinuo e alla fine dell'intero processo, se necessario, è possibile applicare ai tessuti stampati finissaggi specifici per ottenere effetti particolari tramite prodotti già presenti nella gamma Vortex oppure studiati e messi a punto su richiesta. Il Textile Solution Center offre non solo la possibilità di sperimentare l'intero ciclo produttivo integrato, ma mette a disposizione ulteriori servizi. Nello showroom tessuti, un ambiente interamente dedicato alla raccolta di tessuti di tutte le fibre e di varie tipologie stampate in digitale, è possibile valutare la qualità e le infinite potenzialità di questa tecnologia. Nell'area Meeting, i clienti possono approfondire le soluzioni offerte dalla tecnologia digitale con il personale tecnico commerciale di Vortex, trovando la migliore implementazione della tecnologia per la propria realtà produttiva. La sala per conferenze e corsi, che può ospitare fino a 30 persone, offre la possibilità di apprendere le competenze tecniche e imparare a utilizzare al meglio i prodotti e le tecnologie digitali offerti da Vortex e da Epson. Textile Solution Center, un centro completo per la ricerca, la formazione e la stampa tessile digitale su scala industriale.